ciao sono il dottor max in questo video ti spiego come prevenire le infezioni da lieviti le infezioni da lieviti spesso causate dal fungo candida possono verificarsi in varie parti del corpo ma sono più comuni nell'area genitale come la candidiasi vaginale ecco alcune misure preventive per ridurre il rischio di infezioni da lieviti mantenere l'igiene personale mantenere una buona igiene personale è fondamentale assicurati di lavare accuratamente e delicatamente l'area genitale con acqua e sapone neutro durante il bagno o la doccia asciugati bene dopo il lavaggio utilizzando un asciugamano pulito evitare l'umidità l'umidità può favorire la crescita dei lieviti indossa biancheria intima di cotone traspirante evita indumenti stretti o realizzati in tessuti sintetici cambia spesso gli indumenti bagnati o sudati evitare detergenti aggressivi evita l'uso di detergenti aggressivi o saponi profumati nell'area genitale poiché possono alterare l'equilibrio del ph vaginale e aumentare il rischio di infezioni limitare l'uso di antibiotici gli antibiotici possono alterare l'equilibrio della flora batterica naturale rendendo più facile per i lieviti proliferare assicurati di prendere antibiotici solo quando prescritti dal medico e segui rigorosamente le istruzioni evitare cattive abitudini igieniche evita l'uso di prodotti igienici femminili profumati deodoranti vaginali e spray genitali che possono irritare l'area genitale e alterare l'equilibrio naturale limitare l'assunzione di zuccheri i lieviti si nutrono di zuccheri ridurre il consumo di zuccheri raffinati e cibi ad alto contenuto di zuccheri può contribuire a prevenire infezioni da lieviti equilibrio nella dieta mantenere una dieta equilibrata che includa yogurt con probiotici batteri buoni può aiutare a mantenere un ambiente vaginale sano praticare sesso sicuro l'uso di preservativi può contribuire a prevenire infezioni trasmesse sessualmente che possono aumentare il rischio di candidiasi vaginale evitare il sesso non protetto durante le infezioni durante un'infezione da lieviti è consigliabile evitare il sesso non protetto per prevenire la trasmissione o la recidiva dell'infezione gestire le infezioni vaginali se hai una candidiasi vaginale ricorrente o persistente consulta il tuo medico potrebbe essere necessario un trattamento specifico o un piano di gestione a lungo termine ricorda che le infezioni da lieviti possono verificarsi anche in persone che seguono scrupolosamente le pratiche preventive se sviluppi sintomi di un'infezione da lieviti come prurito bruciore o scarico anormale consulta un medico per una diagnosi e un trattamento appropriati le infezioni da lieviti di solito rispondono bene ai trattamenti antifungini prescritti dal medico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video che puoi commentare raccontando le tue esperienze offrendo un servizio utile alla comunità buon proseguimento ci vediamo alla prossima domanda esaminata